e chiudiamo con il segno dei pesci allora amici pesciolini una giornata bella una giornata movimentata una giornata con tanti avvenimenti e con tanti inviti ecco l'unico problema di questa giornata sarà fare una cernita delle cose da fare perché potreste mettere un po' troppa carne al fuoco anche se è domenica